Ascolti TV ieri, GF Vip Boom di Report, Mondiali OK. Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 21 novembre 2022. Bene i mondiali su Rai 1, con il match USAGAL e seguito da oltre 4,5 milioni di utenti, 21.2% di share. Non benissimo invece la trasmissione di approfondimento il circolo dei mondiali. Che ha avuto 1,1 milioni di spettatori, 7,1%. Il grande fratello Vip7 prosegue la sua scalata negli ascolti. Migliorandosi e raggiungendo quasi 2,9 milioni di persone, 23,1%. Signorini e Canale 5 possono sorridere e dormire sonni tranquilli. Da segnalare anche l'expload di report su Rai 3, che ha coinvolto 2,2 milioni di utenti, circa 700.000 in più rispetto a sette giorni fa, numeri decisamente positivi. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 21 novembre 2022. Striscia la notizia vola al 20,4% con l'outsider Ibrahimovic. Il motivo della crescita degli ascolti è però principalmente attribuibile all'assenza in palinsesto su Rai. Uno dei soliti ignoti che ha lasciato spazio ai mondiali. Uno dei soliti ignoti che delle cose che ha lasciato spazio ai mondiali. Grazie a tutti.